Ciao ragazzi, la lezione di oggi è sulla situazione a Roma successiva alle guerre puniche. L'espansione di Roma determinò un aumento degli squilibri e delle tensioni sociali dovuta ad una crescita, ad un'aumentata situazione di disuguaglianze e questo necessariamente poi portò anche a delle tensioni traceti sociali che sfociarono in aperte guerre civili. Ma il cambiamento fu anche di tipo culturale. Quindi come vedremo poi sul piano politico ci fu il tentativo da parte dei fratelli Gracchi di proporre una riforma agraria che risolvesse in parte almeno gli squilibri e le tensioni sociali dovute alle differenze economiche, ma sul piano culturale, quindi iniziamo sotto l'aspetto culturale e vediamo come in effetti la conquista di molti territori da parte di Roma determina dei cambiamenti importanti. Innanzitutto con la conquista della Macedonia e della Grecia Roma venne in contatto con la cultura greca. Questo contatto fu molto interessante, molto fecondo di idee, di apporti nuovi sul piano delle scienze, ma non fu assorbita questa cultura nuova, questa cultura greca, da tutti allo stesso modo. A Roma l'opinione si divise in due. Da un lato ci fu un atteggiamento di maggiore apertura verso questa cultura e questa specie di movimento di idee prese il nome di Circolo degli Scipioni, come vedremo meglio nella slide successiva. E quindi da un lato abbiamo un atteggiamento filoellenico, quindi di apertura, di volontà anche di assorbire questa nuova cultura. Dall'altra invece ci fu una vera e propria chiusura, quindi un atteggiamento anti-ellenico e tradizionalista, sostenuto soprattutto dal ceto aristocratico, che vedeva invece nell'apertura al mondo ellenico, al mondo orientale, un rischio di imbarbarimento, un rischio di impoverimento di quelli che erano i valori romani. Non vero e proprio imbarbarimento, perché anzi la cultura greca era ben più avanti di quella romana. Tant'è che in età imperiale Orazio poteva dire Con questa frase Orazio voleva dire che la Grecia, pur conquistata militarmente, ora riusciva ad avere il sopravvento e a sua volta conquistava il selvaggio vincitore, cioè i romani. In effetti ci fu anche un periodo in cui arrivarono medici, insegnanti, filosofi da Oriente e dalla Grecia, anche come schiavi, come bottino, diciamo così, di guerra, per poi essere liberati, diventare liberti e diventare precettori presso le famiglie degli aristocratici romani. Ci fu anche un periodo in cui i filosofi furono cacciati da Roma, sempre col timore che le loro idee, il loro pensiero, potesse in qualche modo allontanare dal mos maiorum, cioè dalla tradizione degli antenati. Ma tutto questo poi si risorse con, diciamo, un prevalere di quello che abbiamo definito il partito, cioè la corrente di pensiero filoellenica. Il partito, appunto, guidato dagli Scipioni, da questa famiglia che abbiamo conosciuto già durante le guerre puniche e che invece riteneva che fosse necessario, anche su un piano politico e militare, aprirsi a questa nuova cultura e soprattutto conoscere la lingua greca. Perché? Innanzitutto, vabbè, il circolo di Scipioni realizzò, attuò questa politica filoellenica circondandosi proprio di personaggi, di intellettuali, di scrittori storici greci, quindi di lingua greca, e dando un impulso, quasi come de vere e proprie mecenate, dando un impulso quindi anche allo sviluppo della filosofia, della letteratura a Roma. Dall'altro lato, però, la conoscenza del greco era importante pure per un motivo politico, perché diventava lo strumento linguistico indispensabile per poter comunicare con gli abitanti delle nuove province romane, quindi, per esempio, appunto, quelle dell'Acaia, cioè la Grecia, la Macedonia, e poi col tempo anche quelle di tutto il Medio Oriente e anche dell'Africa settentrionale, perché il greco, ricordiamo, dopo la volontà di Alessandro Magno di affermarla come lingua unica e col diffondersi del fenomeno dell'ellenismo, il greco era diventato koinei dialectos, cioè lingua comune, proprio in tutti i paesi orientali. Ma vediamo, appunto, che questa apertura alle nuove realtà orientali si ebbe anche sul piano religioso e quindi entrarono a Roma, cominciarono a diffondersi a Roma anche dei riti, come ad esempio i riti legati al culto di Dioniso, i cosiddetti baccanali, che, diciamo, erano molto lontani, anzi quanto di più lontano, da certi valori del Mos Maiorum, come appunto la semplicità dei costumi, la parsimonia, l'ammorigeratezza dei costumi stessi. Quindi questi riti, basati invece su rituali di tipo orgiastico, venivano visti naturalmente di malocchio. Questo tipo di culti erano culti orientali e implicavano anche un rapporto diretto tra la persona e la divinità, cosa che era molto lontana invece dal sistema religioso del Roma romano, per cui c'erano tutta una serie di caste sacerdotali, di ceti, che facevano da mediatori, collegi veri e propri di sacerdoti. Ma passiamo appunto all'aspetto economico. In che modo quindi queste conquiste influirono anche sul piano economico? Naturalmente le conquiste portarono una quantità di ricchezze, di materie prime in più a Roma, bottini di guerra e naturalmente ci furono dei ceti sociali che ne beneficiarono di più e altri che invece ne pagarono le conseguenze in modo negativo. A beneficiarne di più fu il ceto dei cavalieri, che si arricchì sempre di più, e poi vedremo nella slide successiva anche in che modo, anche non in modo proprio onesto. Ma ci fu invece una crisi per i piccoli proprietari terrieri, prima di tutto perché avevano dovuto abbandonare le proprie terre proprio per partecipare alla guerra, come soldati. Ritornati alle proprie terre le avevano trovate inaridite, naturalmente, per essere state lasciate incolte così tanto tempo, e quindi spesso finivano per essere costretti ad andare a vivere nelle città cercando nuovi lavori e a vendere quindi le loro terre. Vendendo le loro terre queste andavano a ingrossare i possedimenti, ad aumentare i possedimenti degli aristocratici che diventavano veri e propri latifondisti. Inoltre c'è un passaggio anche dalle coltivazioni cerealicole ad altre più redditizie, come per esempio la vite per la produzione del vino o l'olio. Quindi i piccoli proprietari si impoverirono sempre di più. Un ceto medio cominciò invece ad affermarsi ed era il ceto dei cavalieri, non nobili di nascita, questi però diventarono nuovi ricchi. A loro era affidata la riscossione dei tributi, delle imposte presso le province e a maggior ragione il loro potere aumentò con l'Alex Claudia del 218 a.C. che vietava il commercio marittimo ai senatori. Quindi si arricchivano con il commercio presso i nuovi avamposti commerciali, presso le nuove terre conquistate, cioè le province, si arricchivano anche perché prelevavano i tributi, le tasse, e ne versavano una parte, sì, allo Stato romano, ma spesso questi tributi erano gonfiati. Cioè nasce in questo periodo il fenomeno anche della cosiddetta mazzetta, se possiamo dire così, la tangente che veniva pagata e quindi la corruzione inizia a dilagare e a vedere questo ceto sempre più accrescere il proprio potere economico. Non altrettanto cresceva e non cresceva in modo parallelo, parimenti appunto il potere politico. Ecco quindi che questo ceto cominciava ad essere anche scontento e questo malcontento poi sarà espresso con vari disordini sociali e varie esternazioni che porteranno poi ad un tentativo di riforma, come vedremo, da parte dei fratelli Gracchi. Quindi abbiamo detto che invece aumenta la proprietà privata, aumenta la proprietà degli aristocratici, che diventa un vero e proprio latifondo. chiedo scusa. La aristocrazia quindi può avvalersi anche del lavoro dei villici che lavorano per loro e che di fatto sono dei contadini che vivono in una condizione quasi di schiavitù. Ma la villa quindi diventa anche il centro dell'organizzazione dell'agricoltura. Anche gli schiavi hanno una parte importante in questo riassetto della società. Molti schiavi sono stati portati a Roma, in Italia, dalle province orientali, come ho detto prima, anche a scopo proprio educativo, per fare da pedagoghi presso le famiglie di aristocratici, ma in realtà molti schiavi vanno anche ad ingrossare poi il numero dei contadini, dei coloro che erano addetti alla coltivazione delle terre. E in effetti questa società basata sulla schiavitù è quasi una bomba pronta ad esplodere perché sono tanti numericamente, ma non contano nulla politicamente e socialmente. E di fatti una prima rivolta servile, una prima rivolta degli schiavi, scoppiò nel 136 a.C. in Sicilia. Fu guidata da Euno, che si proclamò re di questa sommossa con il nome siriaco, il nome tipico dei re siriani di Antioco, perché la sua provenienza era appunto orientale. Questa rivolta poi si diffuse, ma fu sedata in maniera molto violento, in modo violento dall'intervento dell'esercito romano nel 132 a.C. Lo scontento quindi aumentava anche in questo gruppo sociale e poi un altro gruppo importante fu quello degli alleati. Gli alleati perché non erano ammessi alla distribuzione delle terre conquistate e tra loro appunto serpeggiava uno scontento sempre più ampio. Gli abitanti delle province erano vessati dai magistrati romani, come ho detto, e il fenomeno della corruzione fu sempre più presente e diffuso. A tutto ciò tentarono di porre rimedio due fratelli, Tiberio e Caio Gracco. Aristocratici di nascita perché figli di Cornelia, che a sua volta era figlia di Scipione l'Africano, vincitore contro Annibale e Azama. Ma in realtà molto sensibili, entrambi i fratelli, alla questione sociale e a queste tensioni di cui sto parlando. E così si fecero leggere tribuni della plebbe. Nel 133 a.C. a presentare una riforma grave fu proprio Tiberio Gracco, neoeletto tribuno della plebbe. Questa riforma doveva prevedere una ridistribuzione di terre al popolo, alla plebbe. In che modo? Tiberio stabilì un limite di ettari che poteva possedere ciascuna famiglia, ciascun capofamiglia, ed erano 500. A questi andavano aggiunti 500 iugeri che corrispondono in ettari a 125 ettari. A questi 500 iugeri di terreno se ne dovevano aggiungere 250 per ogni figlio maschio fino ad arrivare ad un numero di iugeri non superiore a 1000 per famiglia. Questo limite veniva posto proprio perché tutto ciò che eccedeva rispetto a questa misura doveva essere poi dallo Stato ridistribuito al popolo. Ma questo non bastò. Tiberio, sapendo di avere l'opposizione forte e tenace degli erati fondisti, provò a ricandidarsi l'anno successivo cosa che non era consentita perché ricordate le cariche e le magistrature erano tutte annuali, temporanee. Ma a questa sua ricandidatura rispose il Senato cercando appunto di sobillare anche le masse contro di lui e fu ucciso nei tumulti. In effetti la riforma accontentava il proletariato ma solo in parte. Poi c'erano tante altre classi sociali che rimanevano scontente. Fu il fratello, dieci anni dopo, 123 a.C., Caio Gracco, a presentare di nuovo la riforma agraria come aveva fatto il fratello, riproponendo l'ex agraria del fratello ma aggiungendo, direi così, quasi un carico da 90. Cioè aggiungendo altre riforme molto forti, molto importanti. Tra queste le leggi es sempronie con le quali venivano affidati il tribunale che doveva giudicare i reati di corruzione commessi ai danni degli abitanti delle province ai cavalieri, agli equites. Ma se ricordate ho detto che erano proprio gli equites corrotti. Quindi affidando i tribunali a membri della loro stessa classe la corruzione finiva per non essere mai colpita e punita. Poi ancora Caio Gracco propose una lex frumentaria che prevedeva delle distribuzioni gratuite di grano e ancora ultima ma non ultima per ordine di importanza ma solo in ordine temporale fu il tentativo di estendere la cittadinanza romana anche ai soci italici. E fu proprio questo il motivo che spinse poi il Senato a rivolgere tutti contro Caio ma per non essere catturato si uccise da solo.